Allora? Cosa? Non mi volevi dire una cosa? No, non mi va più. Parla, ti ascolto. Zitto, la bambina piange. Ma no, è un gatto in cortile. Ti ricordi quando dicevi che volevi almeno quattro bambini? Ma è fatica. Eh, certo è fatica. Tutto è fatica. È che non sei mai stato innamorato di me. Io non ho mai capito perché mi hai sposata. Ti adatti, ti adatti. Anche questa casa, per esempio, è brutta. Io vorrei solo sapere se vuoi lasciarmi. Anche adesso la testa è così confusa. Si vede che mi viene una gran confusione in testa quando mi pare che voglio bene a qualcuno. E vi siete incontrati? Vi siete dati degli appuntamenti? Qualche volta? Io avevo una vita fino a un momento fa che stavo in piedi. Adesso è franato tutto. Sembrava una mattina uguale a tutte le altre. Chi sarebbe lei? Una cugina. Io non ho nessuno. Ma non ho nemmeno una mira. E lo cercherai e non lo troverai. Lo aspetterai e non verrà. Certe volte io ho paura che non riuscirò a liberarmene mai. Io non ti amo più da molti anni. Ma ora ti detesto e ti disprezzo tanto che mi è quasi impossibile sopportare la tua presenza. Ma il tempo, il tempo non passa. Sono gelosa di lei perché lei è giovane e io non sono più tanto giovane. Perché lei è un bambino e io non ne ho. In questa nostra vita è molto raro che succeda qualcosa di nuovo. Questa non è mica una tragedia. È una parzelletta. La vita è molto avala di tragedie. Ci regala invece una fioritura di parzellette. La vita è una parzelletta.